Ciao a tutti da Nicola Castiglione dalla Selezione Nazionale Piloti e benvenuti a un nuovo appuntamento con RacingTime, il TG dei motori. Allora preparatevi psicologicamente perché se ce la faccio oggi vi faccio tre puntate di RacingTime e non solamente due. Perché? Perché le cose da analizzare che stanno arrivando da Imola sono veramente tantissime e quindi ci sarà bisogno forse di una puntata in più. Spero di riuscirci anche con il resto degli impegni di lavoro che ho. Quindi partiamo immediatamente con la sigla e poi con la puntata dove ci riallacceremo anche a una cosa detta ieri che vi avevo promesso che oggi avremmo trattato in puntata. Bene, partiamo subito con questa puntata riallacciandoci a una cosa che ha detto ieri Vasser. Ve l'avevo promesso, oggi avremmo trattato di questo argomento che ieri in realtà vi ho solo anticipato. Sì, più interviste, quindi questa cosa qui che dice è un denominatore comune a più interviste rilasciate dove appunto lui dice che la Ferrari adesso si spinge più al limite senza paura di sbagliare e senza paura di osare. Quindi spingersi più al limite che cosa vuol dire? Vuol dire fare delle scelte particolari, ma vuol dire anche a livello di aggiornamenti andare in zone, a percorrere zone grigie dei regolamenti esattamente come hanno fatto altri. Ecco, mentre la Ferrari del recente passato era molto restia a muoversi in determinate aree, ricordiamoci ad esempio il fatto della flessione delle ali anteriori, come Ferrari sia stata una delle ultime scuderie ad arrivarci e sempre l'ho fatto in maniera molto molto contenuta. Adesso c'è un'altra cosa che abbiamo visto far parte degli aggiornamenti presentati a Fiorano e fotografatissimi qui a Imola come vedremo tra un po', perché adesso vi faccio vedere dei particolari sotto una luce diversa con i dettagli che saltano fuori un po' di più. Però prima vi voglio parlare di questa ala posteriore presentata nei test di Fiorano che cambia un po' rispetto a quanto utilizzato all'inizio di quest'anno, dove c'era il raccordino tra il secondo elemento e il primo elemento. Adesso questo raccordino non c'è più e ci sono due spigoli vivi. Allora in realtà la Ferrari non è la prima ad arrivarci qui a Imola ad esempio, vediamo che su quattro scuderie, qui manca la Mercedes, quindi su quattro scuderie di punta abbiamo Ferrari e Red Bull con questa soluzione, McLaren pare di no e Aston Martin pare di no, però già abbiamo visto come questa soluzione sia stata sposata anche da Mercedes, McLaren, un po' da tutti, anche la Ferrari qualche volta ci ha fatto vedere qualcosa di simile. Però stavolta possiamo dire che si sia spinta un po' più in là in quanto l'estensione di questo spigolo dell'ala posteriore, del secondo elemento dell'ala posteriore della Ferrari, sia un come dire, vada un po' più verso fuori, belle queste strisce bianche e gialle, rispetto a qualcosa di dritto invece che abbiamo visto fino a ora. ora cerchiamo di capire perché viene fatta una scelta del genere e soprattutto che cosa finalmente possiamo rivedere in Formula 1. Allora perché dico che è una zona un po' borderline del regolamento? Perché ragazzi dovete considerare che la federazione, soprattutto per quel che riguarda l'ala posteriore, ma non solo, ha cercato di portare avanti un regolamento dove ci fossero poche spigolosità e molta rotondità. Per quale motivo? Perché in questo modo si andava a diminuire l'effetto outwash delle monoposto che va a disturbare chi c'è dietro. Però abbiamo visto come dal 2022 a oggi, l'effetto outwash piano piano, un po' qua, un po' là, sia stato cercato sempre più. Ora, anche con questa serie di modifiche ci si avvicina a qualcosa del genere. Difatti non sarà difficile, ragazzi, anzi intanto prima vi faccio vedere un'altra cosa. Guardate quanto staccato è il secondo elemento, proprio adesso si vede ovviamente tenuto dal dispositivo che ha il DRS, dalle cerniere che ci sono qui, però comunque adesso si vede come un qualcosa di distaccato. Allora, queste spigolosità vive faranno sì che nei gran premi più freddi e con un tasso di umidità abbastanza importante potremo vedere una cosa che a me da piccolo affascinava tantissimo, ovvero le trecce di berenice. Ve le ricordate, ragazzi? Perché innanzitutto si chiamano trecce di berenice? Perché anticipiamo una delle possibili domande che mi potete fare. Perché berenice le ha scoperte? Assolutamente no. Ci si riferisce alla regina cirenaica del III secolo a.C., nota per appunto la sua folta chioma e poi lì c'è tutto un racconto mitologico che noi non andiamo ad affrontare qui. Oddio, si potevano anche chiamare trecce di Pippi Calzelunghe, perché no? Poteva essere un'idea, però era meno mitologico. Di sicuro non si potevano chiamare trecce di Nicola Castiglione, quello io penso sia proprio da escludere. Allora, che cosa succede? Se ci fate caso, sono due baffetti che vengono fuori dagli spigoli esterni dell'ala e sono come dei piccoli vortici, anzi sono dei piccoli vortici che rendevano le monoposto che viaggiavano sul dritto a una certa velocità molto caratteristiche perché si vedevano questi due baffetti laterali. Ora ovviamente con gli spigoli vivi nell'ala posteriore questi e questi baffetti si vedranno molto di più. Ma da che cosa sono causati? Che cosa succede lì? E soprattutto perché si sceglie di andare con un'ala spigolosa anziché una arrotondata qui. Allora, questa spigolosità, ragazzi, dovete considerare che va a generare dei moti vorticosi in punta, appunto le trecce di Berenice. Qui dovete considerare che il flusso aerodinamico inizia ad avvingarsi su se stesso e produrre quei due baffetti che vediamo sempre. In realtà qui questi moti vorticosi vengono sviluppati non solo dal primo spigolo ma anche dal secondo. Quando c'erano gli emplate, cioè le bandelle molto lavorate, se ne potevano vedere di molto lunghe e molto di più. Ora, perché viene fatto questo tipo di scelta? Perché che cosa succede ragazzi? Praticamente quando la monoposto si muove, soprattutto a elevate velocità, l'aria che passa fuori dall'aria esternamente all'ala è un'aria ad alta pressione. Invece quella che si muove dietro l'ala, cioè quella che c'è dietro la monoposto, è un'aria a bassa pressione. Quindi abbiamo due tipi di flussi, un flusso ad alta pressione e un flusso a bassa pressione. Ora al progettista della vettura che cosa interessa? Proteggere il più possibile la propria vettura e se ne frega di quella che c'è dietro. E allora queste trecce di Berenice vanno a creare una sorta di schermatura in questa zona che fa sì che questi due flussi di cui abbiamo discusso, cioè dire quello ad alta pressione con quella bassa pressione che dietro la monoposto si ricongiungono, ecco, si vadano a ricongiungere un po' più indietro rispetto alla monoposto, un po' più in là, cioè viene ritardato questo momento di ricongiungimento, proprio perché si cerca di schermare quella zona della monoposto, con l'unico vantaggio di diminuire un pochino il drag durante l'avanzamento della vettura, perché più in là, più verso fuori questi due flussi, quello d'aria ad alta pressione, quello d'aria a bassa pressione, si vanno a incontrare e poi a generare flussi a loro volta che creano attrito e più la monoposto sarà protetta. Tutto questo non fa altro che andare a migliorare le performance della vettura, quindi più spigoli ci sono là dietro e più la monoposto va forte, però ci si deve muovere entro certi limiti, perché poi, se no, si va contro il regolamento e si va troppo a disturbare la vettura che segue dietro. Come potete vedere, si fa di tutto per schermare il più possibile la propria vettura, però questo ha un prezzo, cioè disturbare, e a volte questa cosa viene cercata anche apposta, disturbare la vettura che segue. Ad esempio, ieri abbiamo parlato dell'ala anteriore, che tra l'altro è tutta nuova anche sotto la coperta, dell'Aston Martin. Vedete come questo disegno ondulato sia stato abbandonato a favore di uno dritto. Se andiamo a guardare, anche la Ferrari ha fatto la stessa scelta e un po' tutti stanno facendo questa scelta. Per quale motivo? Perché si va a proteggere di più tutto quello che c'è dietro, cioè si va a schermare di più la vettura riducendo gli attriti al livello aerodinamico. Questo è quello che è stato fatto grazie a questa piccola modifica di cui in realtà abbiamo parlato pochino, ma che mi è venuta in mente a seguito delle dichiarazioni di Vassar. Bene, capito perché ci saranno più puntate, perché già ci siamo mangiati dieci minuti solo parlando di questa cosa. Andiamo a dare un'occhiata ai box di Imola, perché alcuni particolari aggiornati si vedono meglio. Ad esempio, vi avevo parlato tante volte, anche prima della presentazione, di questo supportino che sarebbe cambiato per forza di cose. Come potete vedere qui abbiamo quello lì di Imola, che si vede molto meglio qui, e qui abbiamo quello di Miami. Ora, a Imola che cosa è stato fatto? Innanzitutto qui abbiamo un filo interdentale piccolissimo che va a tenere lo specchietto nella sua estremità. Ma poi è nato un deviatore di flussi, che anche in questo caso tende a separare i flussi aerodinamici, cioè a dire quelli che vanno in questa zona della vettura e si dirigono verso gli scivoli delle pance, che sono cambiati rispetto a Miami, ma che ancora non abbiamo visto. E poi, quelli invece che stanno all'esterno vengono buttati verso fuori. Appunto, anche qui effetto outwash. E poi un'altra cosa che vi voglio far vedere, guardate qui la bocca delle pance. Vedete adesso come è molto più piccola. Prima era un po' più alta. Questo perché è stato possibile, ragazzi? Perché adesso si va a sfruttare anche la presa d'aria verticale per convogliare aria verso i radiatori, che prima invece era designata all'esse duct, o bypass duct se preferite. Infatti, come possiamo notare qui, scusatemi, spostiamo la manina dove serve, non c'è più lo sfogo d'uscita che c'era fino in Miami. Adesso, come vedete, qui è tutto più pulito. Abbiamo questo deviatore di flusso molto arcuato, che anche qui va a separare i flussi. Quelli che vanno a lambire la calorazzeria verso la zona dello sfogo d'aria e invece quelli che poi vengono convogliati verso l'esterno. Sfogo d'aria che cambierà durante la stagione, in quanto, come potete vedere, questo coperchio è perfettamente ammovibile e questo foro può crescere o diminuire in base alla temperatura esterna. E poi ancora voglio farvi vedere un'altra cosa che sempre a Fiorano c'era, cioè questa piccola fessura dalla quale esce aria, è soprattutto l'adesivo di Ayrton Senna aria calda e soprattutto l'adesivo di Ayrton Senna che le Ferrari hanno entrambi ovviamente in vettura. Bene, chiudiamo con la programmazione delle nostre dirette, domani si inizia alle 13.20 e poi sempre sul canale Yellowskid avremo tutto quanto quello che state leggendo qua. Ragazzi io vi lascio, preparo a breve un altro video perché ci sono tante altre novità da guardare insieme che arrivano dai box di Imola. Un bacio, ciao!